ultima sigaretta cosa mi può dire di questo 11 settembre 2001 il mondo crolla ultima sigaretta 7 marzo finne storia con simona ultima sigaretta 2 febbraio 9 luglio ultima sigaretta 4 marzo 4 giugno ultima sigaretta l'ultima sigaretta l'ultima sigaretta le ho provate tutte e da fastidio se la chiamo sigmund hai sfatto di galera a me al tuo miglior amico cosa mi dice di questa noi non ci siamo mai parlati tanto io e mio papà non aveva niente da dirci che desiderio espresso sparati con questa fai bravo 15 4 2015 S ultima sigaretta signori il novecento è finito da un pezzo fatevene una ragione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti